Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio scoprire insieme a voi queste blind bag di Letra Animal. Chi si ricorda i Letra Bot? Ecco, questa volta abbiamo delle letterine che possiamo trasformare in animaletti e sono un prodotto by Chikaboom. Questa è la blind bag, c'è scritto che la collezione è composta da 26 lettere, collection jungle, molto molto interessante e all'interno della bustina troviamo un animale, la sua card ed infine la checklist. Come vi dicevo prima sono un prodotto by Chikaboom adatto dai 3 anni in su e potete trovarli in tutte le edicole al costo di 3,99€. Ragazzi io sono super super curiosa di questa nuova collezione di lettere animali e quindi scartiamo subito la prima blind bag senza fare disastri ragazzi. Dunque vediamo un po' chi troviamo in su. La prima letterina che troviamo è la A, molto molto carina, quindi è una letterina in verde con i contorni bianchi. Vediamo un attimo la card del nostro Letra Animal, ecco qui quindi abbiamo trovato Armor e lui è uno stegosauro. Prima di trasformare la nostra letterina in un animaletto controlliamo anche la checklist che a quanto pare è infinita. Ok, da questa parte come potete vedere abbiamo le istruzioni per trasformare la lettera in un animaletto e da questa parte invece abbiamo alcune informazioni per quanto riguarda la sua card. Qui c'è scritto ogni Letra Animal si può trasformare in una lettera la cui potenza è espressa in un valore Letra Power compreso tra 1 e 10. Quindi la potenza del nostro stegosauro è 1, la letterina è la A, qui c'è scritto anche il nome della collezione, guardiamo un attimino, Collection Jungle, giusto. Razza del Letra Animal, numerazione della card e insomma questa è tutta la descrizione della card e devo dire che è piuttosto chiara. Da questa parte invece ragazzi abbiamo tutta la checklist di tutti i Letra Animal disponibili per questa collezione. Noi abbiamo trovato giusto appunto Armor ma possiamo trovare Best, questo è un altro dinosauro, Dino, Dino mi piacerebbe un sacco trovarlo. C'è l'Oraf, la Giraffa, Ocean, il Granchietto, sono veramente molto molto particolari ragazzi poi fatemi sapere ovviamente qual è il vostro preferito. Guardate c'è anche un'aquila, lei si chiama Vicky, molto molto carine ragazzi. Quindi incominciamo subito a trasformare la nostra letterina in Armor lo stegosauro. Ragazzi sto riscontrando qualche problemino a trasformare la mia letterina in stegosauro, tant'è che adesso è per metà uno stegosauro e per metà una. Fantastico ragazzi, qui ci sono tutte le indicazioni per trasformarlo appunto in un animaletto ma non ce la faccio ragazzi. Qui ci sono i piedini e fin qui ci siamo, qui sotto dovremmo aprire queste alette e tirar fuori le gambine posteriori e fin qui ci siamo. Ma non posso montarlo in questo modo, vedete la figura ragazzi, quindi dovrei tipo strappare i piedi dalla letterina ma non credo. Comunque ragazzi passiamo al prossimo e vediamo cosa riesco a fare. Prossima blind bag e speriamo che mi capiti un Letranimals un po' più semplice da montare. Dunque vediamo che troviamo qui dentro, prima troviamo la card, la checklist e quindi sì ragazzi sono riuscita a trovare la letterina B, proprio quella che mi interessava. E quindi troviamo un altro dinosauro, lui è Dino il Brontosauro e il suo valore, l'Eletra Power è il 3, quindi vediamo un attimino come si monta. Ci sono illustrate tutti i passaggi e comunque per qualsiasi problema, cosa che farò sicuramente anch'io, potete andare a vedere i tutorial video YouTube di Chica Boom. Ok, qui come prima cosa c'è scritto apri, quindi proviamo ad aprire ragazzi, ok fin qui ci siamo. Oh mio Dio, sto già spaccando tutto, è normale? Penso di sì. Sto cominciando a perdermi, intanto tiriamo fuori queste gambine o questi piedini, ce la possiamo fare, quindi poi una volta montato dovrebbe essere tipo così, non lo so, perfetto. Però proseguiamo, qui sopra c'è qualcos'altro che bisogna aprire, ok qua c'è la testolina del nostro dinosauro e vediamo se riusciamo a tirarla fuori in qualche modo. Ok, ce l'abbiamo fatta, qua bisogna girare i piedini in questo modo e stessa cosa da questa parte, bisogna girare verso l'alto questa parte e poi girare i piedini verso il basso. Ok, ce l'ho fatta, sono riuscita a costruire il mio primo Letra Animal. Lui è Dino, è un brontosauro e devo dire che è veramente super super carino. Prossima blind bag, scopriamo quale Letra Animal si nasconde qui dentro, ok abbiamo trovato una V in arancione con i bordi bianchi e quindi vediamo a quale animaletto corrisponde, dunque vediamo a Vicky ragazzi, l'aquilotta ed è super super carina. Questa è la sua card, il suo valore Letra Power è 3 ed è un'aquila rapace, quindi un'aquila rapace. Ok ragazzi, provo a montarla, qua ci sono tutte le spiegazioni e quindi come prima mettiamoci all'opera. Dunque, prima di tutto ci dice di sollevare verso l'alto la parte gialla, vediamo un po'. La parte gialla, ok, fin qui ci siamo. Qua c'è la testolina della nostra aquila, il beccuccio, ma guardate che meraviglia ragazzi. Flip 180 gradi, quindi questa parte dobbiamo richiuderla, ecco fatto. Ed ora procediamo con il resto del corpo. Qui nell'illustrazione 3 ci dice di aprire a metà, io ho tanta paura ragazzi di combinare disastri. No, ok, ce la posso fare. Ah, e qui ci sono le ali, no vabbè ragazzi, ma guardate che meraviglia, sono veramente fantastici. Vi dirò, non è proprio molto molto semplice trasformarle, soprattutto il dinosauretto di prima, non ce l'ho fatta, ma comunque si tratta di un gioco molto divertente e sotto certi aspetti molto molto intelligente, perché comunque mette alla prova le nostre abilità. Quindi queste sono le allucce della nostra aquila, che bisogna sistemare qua, in questo modo. E quindi eccola qui. Prossima blind bag di Letra Animal, scopriamo quale altro animaletto troviamo qui dentro, poi mi raccomando ragazzi fatemi sapere qual è il vostro preferito e se anche voi avete riscontrato qualche problemino nel montaggio. Qui cosa abbiamo? Abbiamo una X e quindi scopriamo insieme chi abbiamo trovato. Dunque, lui si chiama Xfly, il suo valore Letra Power è 4, molto potente quindi, e si tratta di un Moschitos, di una mosca ragazzi, molto molto interessante. Quindi mettiamoci subito all'opera e trasformiamo questa X in un Moschitos ragazzi. Dunque, allora, vediamo un attimino, qua ci dice di girare queste parti verso l'esterno. Ok, stessa cosa per quanto riguarda questi dietro, che poi sono in sostanza le zampette della nostra mosca. E qui vediamo un attimino, dunque, ok, ce l'abbiamo fatta ragazzi, anche questo è piuttosto semplice. Oh mio Dio, si stanno attaccando le zampe alla testa, portate un attimo di pazienza. E quindi ecco qui è la nostra X Moschitos. Ultima blind bag ragazzi, quindi scopriamo quale altro Letra Animals troviamo. Dunque, abbiamo una letterina rossa, è una Ypsilon, e quindi a quanto pare abbiamo trovato Yo-Yo, un'asta Cidae, che ricorda molto appunto un astice. Ragazzi, ho comunque un gambero, mi sta venendo fame, poverino. Tralasciamo ragazzi, il suo valore Letra Power è il 4, ed eccolo qui sulla checklist Yo-Yo. Quindi vediamo un attimino come si costruisce questo Yo-Yo. Dunque, dobbiamo prenderlo dalla parte frontale, qui dove ci sono gli occhietti, e qui ci dice apri. Dunque, proviamo ad aprire questa parte. Oh mio Dio ragazzo, ho sempre paura di distruggerlo. Ecco qui, qui abbiamo appunto le sue chele. E qui sul retro ci dovrebbe essere dell'altro. Questa, se non sbaglio, è la sua codina. Estraiamola, fantastico. Richiudiamo, apriamo per benino tutte le sue zampette, o comunque le sue chele. Ed ecco qui il nostro, ah sì, stavo dicendo il nostro astice, ragazzi. Ecco qui la nostra Asta Cidae, che si chiama Yo-Yo. E quindi ragazzi, ecco qui tutti i nostri Letra Animal montati, tranne Armor, lo Stegosauro. Ragazzi, non ce la posso fare. Fatemi sapere se per caso l'avete trovato anche voi, e se per caso avete avuto problemi a trasformarlo. Comunque mi guarderò il tutorial, ragazzi. Per il resto, mi piace veramente un sacco il Brontosauro Dino. È veramente super carino, ed è stato piuttosto semplice montarlo. Ed infine mi piace un sacco anche Vicky. Molto molto semplice da trasformare, e molto molto carino. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Io ringrazio di vero cuore Chica Boom per avermi inviato questi Letra Animal da scoprire insieme a voi. E vi ricordo appunto che li potete trovare in tutte le edicole al costo di 3,99€. Il video termina qui ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Vi mando un mega bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!